Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, oggi ho pensato di creare un unicorno con il nostro set della SES Creative per creare candeline. Vedete che la scorsa volta ho creato un emoji e sapete tutti bene di cosa si tratta. Oggi invece ho pensato proprio a un unicorno, visto che questi unicorni stanno impazzendo, e anzi stanno impazzando, stanno piacendo a tutti e quindi ho pensato di crearli. Ora criniera e coda multicolor. Ci siamo quasi, eh? Ecco qui che abbiamo tutti i colori. Ora con l'aiuto del nostro attrezzo tagliamo. Tagliamo una parte la coda e una parte la criniera. Eccolo qui il nostro unicorno! Guardate che meraviglia! Cosa ne dite? Considerate che è una candelina, eh? Quindi è tutta cera, non è mica facile. Per me è super divertente. Sorride. Quindi anche lui si sta divertendo. Ma ci manca il tocco di classe, il buchino per lo stoppino. E direi di farlo proprio, proprio qui. Inseriamo. Lo stoppino e tagliamo. Eccola qui pronta la candelina a forma di unicorno per rallegrarvi tutte le giornate perché no anche queste feste. Dare un po' di luce con un sorriso. Insomma, un set davvero creativo e divertente per creare tantissime candele come meglio credete. Le vostre creazioni più divertenti. Insomma, svizzerretevi e fatemi sapere cosa ne pensate di questo fantastico set della SES Creative per creare candeline. Io aspetto tutti i vostri commenti. Intanto vi saluto e vi faccio, vi auguro anzi, buonissime feste per queste vacanze natalizie. Un bacione a tutti e a presto. Ciao.